L'installazione della Kia alla Milano Design Week 2024 Opposites United Intersections Beyond Boundaries è un tripugno di luci e colori come abbiamo già visto nel video sulla Jam Session degli Xilofoni della Scala vi invito a recuperare il video in descrizione All'interno dell'installazione ci sono giochi di luce che sono coordinati con la musica di atmosfera che si ascolta man mano che si cammina attraverso i corridoi Alcune di queste immagini mi fanno pensare alle gocce che cadono nell'acqua altre addirittura alla creazione dell'universo Immergiamoci quindi in queste fantastiche atmosfere All'interno dell'installazione ci sono giochi di luce All'interno dell'installazione ci sono giochi di luce Grazie a tutti.